Eccoci cari studenti per cominciare il nostro studio del Libro dell'Esodo. L'immagine che ho scelto per voi, evocativa, rappresenta appunto una terra deserta come quella che si è trovata ad affrontare il popolo di Israele, ma una terra che in qualche modo ha una prospettiva e che mostra tutte le difficoltà del cammino. Vediamo come questo libro all'interno del Pentateuco riceve la sua luce e il suo posto di valore. Intanto è il racconto dell'evento che fonda il popolo, ovvero la liberazione. Tenete presente che con questa espressione intendo dire che come fondamento c'è un evento, quello di una liberazione rispetto a una schiavitù, ma questo evento storico viene riletto con la fede di un Dio che entra dentro la storia e in qualche modo la conduce. Per cui cercheremo di capire come è possibile passare dall'elemento di liberazione all'idea della salvezza, da un elemento storico a un elemento soteriologico. Sicuramente come evento vissuto dal popolo di Israele rappresenta un carattere fondante per il popolo, ma esemplare poi per ciascuna persona, non solo per ciascuna persona. Anche lo stesso popolo nelle vicissitudini future rispetto agli eventi che sono narrati dentro questo libro, ripercorrerà le stesse dinamiche e ritroverà dentro questo testo proprio il carattere di esempio, di archetipo, di processo. Quali chiavi ermeneutiche possiamo utilizzare per poter leggere questo testo? Beh, anzitutto è la storia di Dio che si fa conoscere come colui che è. Faccio riferimento a un testo molto preciso che si trova appunto nel libro dell'Esodo al capitolo terzo, il versetto quindicesimo, versetto sopra il quale molti studiosi hanno già lavorato e che in qualche modo è risultato oggetto di parecchie riflessioni teologiche. Perché? Perché qui si trova la rivelazione, la manifestazione del nome di Dio che direttamente a Mosè si manifesta e si dichiara come colui che è. Non mi serve tanto soffermarmi su aspetti di carattere esegetico, mi è sufficiente in questa sede che voi tratteniate un concetto semplice. Dire che il Dio biblico, ovvero il Dio che si rivela a Mosè, è colui che è, non significa che questa sia un'idea o una ideologia, un essere che vive soltanto nel pensiero, ma è una persona che si comunica, quindi che entra in una relazione, ma ci entra in relazione come colui che è il principio dell'esistenza, anzitutto dell'esistenza propria, ma anche come principio fondante dell'esistenza di tutto ciò che è. Quindi è colui che è e che sarà sempre, principio inequivocabile di fedeltà, è colui che resterà immutato nel tempo della storia del popolo di Israele per tutta la storia della salvezza, fine ai giorni nostri, non solo, ma è colui che è la ragione sufficiente del fatto stesso che lo si possa pensare come essere esistente. Cerco di spiegarmi meglio. Il principio dell'esistenza di Dio è la condizione per la quale, riconoscendo la storia che è accaduta, qualcuno la possa riflettere come riverbero dell'azione di un Dio che è. Se non ci fosse stato lui al fondamento di tutto ciò che esiste e di tutto ciò che accade, nemmeno lo potremmo pensare come colui che è. Inoltre, il popolo che si identifica dentro questo testo, nel libro dell'Esodo, è un popolo in cammino che non ha ancora raggiunto la meta. Vale la pena sottolineare già qui questo elemento come elemento caratteristico. È un'esperienza, quella del cammino, che fa riferimento a una delle esperienze antropologiche più comuni, che è quella appunto del lasciare un luogo e soprattutto quello del camminare, cioè quello di sperimentare la fatica, le incertezze, la difficoltà del cammino, la ragione interiore del perché si cammina, ma non solo. Significa anche porsi verso l'atteggiamento di fiducia, ma anche la determinazione a seguire una indicazione. Quindi teniamo presenti queste tre chiavi armeneutiche come fondamentali. Dio come ragione dell'esistente, Dio come persona che si comunica in una relazione specifica con un popolo, con un popolo che è in cammino. Quali contenuti possiamo riscontrare all'interno di questo libro? Anzitutto abbiamo, proprio parlando di che cosa questo libro ci racconti, ci racconta gli inizi della storia come popolo dell'alleanza. Non è il primo caso di alleanze che Dio stabilisce, ma in questo caso, dentro il libro dell'Esodo, l'alleanza viene stabilita con un popolo. E come fa Dio a costituire questo popolo? Lo costituisce liberandolo, cioè attraverso un'esperienza concreta di liberazione, lo costituisce come suo popolo. Cioè la liberazione è l'esperienza storica fondante di Israele perché si possa costituire come popolo e per identificarsi come popolo di Dio, Dio conclude un'alleanza, quella del Sinai. Non può fare questo da solo, ma ha bisogno di un mediatore, in questo caso Mosè. Dio è il protagonista di tutto ciò che viene elargito e viene donato e Mosè funge per lui da mediatore. E quindi noi abbiamo leggi, decreti, istruzioni sempre provenienti da Dio, ma che passano attraverso le parole, i gesti e l'autorità di Mosè. Vale la pena ricordare qui che Mosè riceve proprio un mandato e una missione. Diciamo che, come vi avevo già accennato, nel caso di Abramo rispetto al libro della Genesi, anche Mosè riceve una vocazione, cioè una chiamata. Qual è l'obiettivo che si dà a Dio all'interno della storia dell'Esodo? Quello di fare di Israele un popolo sacerdotale e una nazione santa, quindi come vedete vengono ridefinite, ribadite, chiarite quelle che sono le promesse fatte ai patriarchi. Una cosa che mi preme ricordiate di nuovo è che la legge, anche in questo caso, anche nel caso del libro dell'Esodo, si inserisce in una storia umana. In questo caso una storia concreta, non più a valore personale, come era per esempio nel caso del libro della Genesi, ma qui, in questo caso, la storia è quella di un popolo. Vale la stessa regola, la legge chiede una risposta nell'uomo. Se ci sarà questa condizione di risposta, l'alleanza resterà in piedi. Se la risposta dell'uomo non ci sarà, vedremo all'interno del libro dell'Esodo quello che è poi il riverbero che avrà all'interno del cammino del popolo di Israele. Una divisione possibile, abbastanza acclarata, del libro dell'Esodo è quella che vi propongo qui. I primi sei capitoli fino al quinto versetto del capitolo 7 è la storia di Israele in Egitto. Dal capitolo, dal sesto versetto del capitolo 7 fino al ventunesimo versetto del capitolo quindicesimo, abbiamo sia la lotta per la liberazione del popolo dall'Egitto, sia la Pasqua, sia l'uscita dall'Egitto. I capitoli che vanno da 15 a 18 rappresentano appunto la prima parte del cammino nel deserto. Importantissima la sezione che va dal capitolo 19 al capitolo 24 perché qui è raccontata l'alleanza al Sinai e il dono della legge. Poi dal capitolo 25 al capitolo 31 avremo le leggi che sono legate al santuario, quindi alla presenza di Dio nel suo popolo, ma dal capitolo 32 a 34 il peccato degli israeliti è la nuova schiavitù col vitello d'oro. Quindi come vedete c'è un controaltare rispetto all'uscita e alla liberazione dall'Egitto con una nuova schiavitù. Il finale del libro dell'Esodo, i capitoli da 35 a 40, c'è la costruzione del santuario e l'ingresso del signore in esso. Quindi come vedete si inizia in uno stato di schiavitù, si finisce con l'ingresso del signore nel santuario e quindi la costituzione del popolo sacerdotale. Vi offro un'altra possibile schematizzazione di questa divisione che può servire diciamo così per la memorizzazione. Da un lato ci sono i primi tre blocchi, cioè la schiavitù di Israele appunto in Egitto, l'opposizione del faraone e poi la liberazione. Ovviamente che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo l'alleanza che sta nel cuore del testo che poi ovviamente riprende con la seconda parte del testo che come vedete funge da contraltare e si sviluppa diciamo così in forma concentrica la promessa della presenza di Dio, l'infedeltà e dopo il perdono Israele libero che serve il signore. Quindi come vedete c'è un movimento che parte dalla schiavitù e porta alla libertà il cui cuore centrale fondante e fondamentale sarà appunto l'alleanza. Ecco quindi è fondamentale proprio meditare su questo passaggio diciamo così consecutivo fatto proprio in questa maniera. È talmente importante il libro dell'Esodo e quello che qui è contenuto che all'interno della Gadà di Pesach, cioè il rito della Pasqua ebraica, è contenuto ancora il riverbero dell'esperienza dell'esodo nel testo che appunto viene utilizzato. Questo è il pane dell'afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d'Egitto. Ogni persona che ha fame venga a mangiare ed ogni persona che ha bisogno venga a festeggiare Pesach. Quest'anno noi siamo qua ma l'anno prossimo saremo in terra di Israele. Quest'anno siamo qua come asserviti ma l'anno prossimo saremo liberi in terra di Israele. Come vedete l'idea del passaggio dalla schiavitù alla libertà diviene l'elemento con il quale ogni israelita percepisce la propria vita. Un passaggio che ha una dimensione precisa. È guidato da questo principio teologico. Dio trae fuori. La schiavitù dell'Egitto è archetipo di ogni schiavitù. Per questo carattere esemplare è riferibile anche alla fine della deportazione a Babilonia, come della liberazione dalla diaspora verso il regno escatologico. È uno schema soteriologico riproducibile in situazioni anche molto dissimili. Che cosa intendo dire? Intendo dire che non avremo bisogno poi di fare di nuovo un'esperienza come quella che fece il popolo di Israele in Egitto, cioè un'esperienza di schiavitù fisica. Sarà sufficiente vivere un'esperienza umana di oppressione? Potrebbe anche essere un'oppressione di carattere spirituale come quella del peccato per riprodurre lo schema che noi troviamo dentro il libro dell'Esodo, che è questo. Uscire da, passare per, entrare in. Noi possiamo vedere questo schema molto ben definito nel libro dell'Esodo. Talvolta lo troviamo uscire da, entrare in. Esci da una parte e entri in un'altra. Nel caso del libro dell'Esodo è fondamentale anche il passare per. consentitevi un piccolissimo riferimento a che cosa sia il deserto. L'esperienza che il popolo di Israele fa, uscito dall'Egitto, e l'Egitto in questo caso ha il carattere dell'oppressione e della schiavitù. Ma tenete anche presente che cosa sarà l'Egitto, il posto dove gli uomini e gli israeliti potevano comunque mangiare. Passare per il deserto. Il deserto è, da un punto di vista vegetativo, è sicuramente l'assenza della vita, non ci sono piante. Da un punto di vista, diciamo così, animalesco, è il luogo delle fiere e, da un punto di vista così umano, è il luogo della solitudine. Il redattore di Esodo ha ben presente questo luogo come un luogo ostile, comunque che non facilita la vita. Per poter camminare in questo luogo, ti devi fidare della meta che vuoi raggiungere, entrare in. L'obiettivo del popolo di Israele è Cana, è la terra promessa e per essere precisi è una terra, diciamo mitica, dove scorre latte e miele. È una terra sperata, che fa proprio da contraltare, fa capire quanto sia importante la motivazione del cammino. Per questo ve lo sottolineavo prima. Cioè, l'esperienza dell'Esodo, usciti da un luogo per entrare in un altro, richiede la fiducia incrollabile in chi ti ha fatto uscire da quel posto e che meriti la fatica del cammino. Teniamo ben presente che il popolo di Israele proprio su questo passaggio inciamperà e si macchierà del peccato del vitello d'oro che imporrà un nuovo perdono, non prima comunque di ottenere un giusto castigo. Quali sono le attenzioni narrative che noi abbiamo all'interno di questo testo? Da una parte abbiamo un quadro storico ben definito, poi ci sono i dati genealogici, ci sono dei dati cronologici e dei toponimi di riferimento. Che cosa intendo dire quando dico questo? Dico che dentro il libro dell'Esodo noi abbiamo sicuramente dei riferimenti precisi proprio alle vicende, alle vicende storiche vissute, ma anche alle successioni genealogiche degli eventi, poi ci sono anche proprio dei dati cronologici. Queste attenzioni e queste attenzioni narrative ci fanno fare una piccolissima riflessione. La fase redazionale di esodo è una fase redazionale lunga. Contiene elementi di tradizione più antica, i avisti, andiamo dal X secolo a.C., ma poi si arricchisce di elementi della tradizione eloista, quella dell'VIII secolo, ma con questi riferimenti, soprattutto i toponimi oppure i dati cronologici, noi possiamo avanzare l'ipotesi che certamente abbia all'interno anche elementi di tradizione sacerdotale, quella del V secolo a.C. Quindi, come vedete, discutere sugli elementi redazionali di esodo è fare un elemento molto complesso. Il consiglio che do io è sempre quello di tenerlo insieme così come ci è stato consegnato, perché anche il libro dell'esodo lo si comprende bene se lo si legge nella sua totalità. Di che cosa ci parla l'esodo? Intanto ci parla di come dalle 70 persone in esilio che sono andate in Egitto insieme a Giacobbe, si arrivi ad un grande gruppo. In qualche modo esodo parte con la realizzazione delle promesse fatte ai patriarchi sulla discendenza. Ovviamente ci parla storicamente di un elemento importante, quello di una schiavitù che probabilmente è stata vissuta dal popolo di Israele tra il XV e il XIII secolo a.C. Il redattore di Esodo ci dice chiaramente che il popolo di Israele si è trovato in schiavitù per la paura del faraone rispetto al numero degli israeliti. Attenzione perché proprio questo numero degli israeliti era la realizzazione delle promesse del libro di Genesi. Quindi c'è il faraone che vede nella realizzazione di ciò che Dio aveva promesso al suo popolo un elemento di paura per il suo potere. Ecco quindi che deve intervenire Dio utilizzando il mediatore. Ecco la chiamata di Mosè, apre una strada attraverso Mosè per il destino del popolo e la fedeltà alle promesse, perché lui è un Dio fedele e quindi non si dimentica delle promesse fatte al suo popolo. Siamo certamente in grado di cominciare a leggere brani scelti dal libro dell'Esodo. Non è facile comprendere la complessità di questo testo. Vi basti soltanto dire che tutte le volte che gli studiosi hanno cercato di definire anche quale sia stato il tragitto complesso che il popolo di Israele ha fatto attraverso questo lungo cammino intorno alla penisola del Sinai, prima di arrivare appunto alla terra promessa, ha dovuto ipotizzare molti viaggi e molti spostamenti di questo popolo. E il libro dell'Esodo, che noi seguiremo in una lettura teologica ovviamente, ci rende partecipi di un'idea molto precisa di un Dio, di un Dio che trae fuori, salva, conduce, si prende cura, dona la sua legge, ma di fronte a un'infedeltà punisce, ma poi è disposto a perdonare e a garantire comunque la sua presenza all'interno del suo popolo. Quindi veramente la lettura del libro dell'Esodo sia un elemento esemplare per la vita di ciascun credente. Non è un caso che questo testo poi diventi anche tanto importante nel Nuovo Testamento e per quella che è la figura di Mosè e per quello che poi sarà la Pasqua intesa proprio come passaggio e liberazione.